si può scegliere con la paglietta ma tu sei attrezzato dico ho tratto l'overglass sotto vedete la bollita ah quando ti fanno male che pungono quando ti fanno male quando ti fanno male come vanno le scarpe Enzo? un voyage ma non ci arriviamo da nessuno non è un leopo oh come riconosce la voce del padrone gopro spegniti gopro muta gopro suca dai non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è il cielo è un mare sì con questo non c'è il cielo è un mare si con questo Sì. Aspetta, va, ok, gopro scatto multiplo, non c'è in questa la sequenza, gopro sequenza, gopro, stutati, gopro arresta video! Bello quel tiro, eh, Cree? No, 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 no! No, 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 no! Fra cosa facciamo il trenino per scendere? No, 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 no! No, 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 no! Sì! Sai l'angolo che tenesti? Sì! Quello qui tendevi la pargoletta a mano! Vai recupera! Ehi recupera! Tutto tutto tutto! Ancora ancora! Ma che cazzo! Bravo! Comunque faccio il treno! E tacca ancora! Bellissima! Dai! 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 No, 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 no! Osso! Posso dare la mia cabiglia da mollare! Baccia di teatro! vai Enzo, recupera mi tensioni che devo, Enzo tensiona tutto quello che puoi per favore sono in due che sono, vado eh